Grazie a tutti Abbiamo sia di qua che di là l'acqua che è ancora sopra davanti ai loculi e abbiamo laggiù un manufatto che ha un buco così fatto dall'acqua con dentro le casse datate quindi forse già mineralizzate. In più abbiamo qui questo che è scocchiato su con l'acqua, qui sotto ci sono degli ossari e questo loculo qui è l'acqua sfondato. E ci sono delle casse, cioè delle cassette con le ossi vestiti dei defunti. Grazie. 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 Grazie.